Poi, allora il tuo senso, che vuole sei? Tresa? 3, 2, doppiano, guarda l'esercito, di qua, ancora proprio, 4, 3, 2, calcio dietro, 1, scuola, eh? Dopo, 3, 2, scuola, ancora dopo, 4, 3, 2, scuola, e poi, troppo, 3, 2, scuola, e poi, più panco, 4, 3, 2, scuola, e poi? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.